ragazzi 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 finalmente ci avevamo fatto a 6.000k tanta roba il piccolo canale che siamo benvenuti a tutti noi iscritti benvenuti a tutti ringrazio tutti grazie chi passa sempre in live che passa a lasciare solo un saluto e grazie i moderatori ringrazio chi usa il codice creatore ringrazio tutti tutti da blu all'ultimo ciao belli ci vediamo nei prossimi eventi ciao